Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguri, in questo video parliamo del ricovero in ospedale per il famoso personaggio, personaggio che sta vivendo un vero e proprio calvario e le sue condizioni di salute preoccupano i fan e tra qualche secondo scoprirete di chi stiamo parlando e prima di iniziare vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 700 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, è un periodo molto delicato per Edson Arantes do nascimento, conosciuto ai più come Pelé, Pelé è considerato all'unanimità il più grande calciatore di tutti i tempi, di solito c'è la disputa con Maradona e ci si chiede chi è stato il più grande tra Pelé e Maradona e al di là di questo veniamo all'attualità, diciamo che Orei nello scorso settembre è stato operato per la rimozione di un tumore al colon e nei giorni scorsi apprendiamo dai suoi profili social e dai suoi figli che è tornato in ospedale fondamentalmente per una chemioterapia, Pelé sta un po' meglio e dichiara mi sto preparando alle feste e in questa sede voglio lasciarvi con un sondaggio laddove abbiamo menzionato, due miti, due icone, due leggende del calcio, sicuramente i più grandi di tutti i tempi, cari amici di Youtube e amici del primo calcio di Marco Liguori, secondo voi chi è il più grande calciatore di tutti i tempi? A. Diego Armando Maradona o B. Edson Arantes Pelé, io vi ringrazio per l'attenzione, ricordatevi di rispondere al sondaggio, ovviamente vi terrò aggiornati sulle condizioni di salute di Pelé, ciao a tutti!